Il prossimo webinar di Giorgio Rossi sui misteri sarà domenica 9 maggio. Troverete il link in descrizione sotto al video nell'info box. Troverete inoltre anche la registrazione del primo video seminario La cabala e il gioco di Dio. Grazie a tutti per il vostro sostegno. Salve a tutti, siamo qui per presentare il webinar sui misteri che avrà luogo il 9 di maggio. Questo webinar sarà molto particolare perché la tematica dei misteri sarà affrontata non nei modi, diciamo, ordinari dal punto di vista archeologico, sociologico, antropologico anche esoterico, se vogliamo, o quantomeno di storia antica. Cercheremo di mettere in evidenza l'attualità del messaggio misterico però scorporando da questo tema tutte le tematiche che sono state, diciamo, sovraimpresse. Interpretazioni molte volte di comodo o, per esempio, che hanno rivelato, cioè hanno velato una seconda volta quello che in teoria doveva essere un messaggio contrario, cioè di svelamento. Una delle prime parti sarà proprio dedicata al fatto che i misteri non sono il mistero, M maiuscola. Cioè, molte volte nella storia, specialmente quando si passa da forme spontanee a forme istituzionali, organizzate da cui poi sono venute, diciamo, le religioni, i misteri in pratica sono delle forme parareligiose esoteriologiche, no? Oltre alla salvezza dell'anima, della conoscenza, eccetera. Però la strutturazione occlude, fa perdere, quello che era il messaggio originale. E anche le interpretazioni che ne vengono date, sia pure validamente appoggiate a dati archeologici appunto storici, non tengono conto dei processi iniziatici reali che si suppone si svolgessero in quell'ambito e delle interpretazioni che ne vengono date secondo l'ottica moderna, non nell'ottica del momento in cui questi fenomeni erano viventi, erano effettivamente praticati. Attraverso quest'analisi dobbiamo scoprire quello che è il deposito, l'eredità che da 2500, secondo altri attori, 3000 anni fa, ha continuato a trasmigrare. È passato attraverso ideologie, religioni, visioni del mondo e molte volte di questi contenuti misterici sono appropiate le religioni successive. Però celando questa, diciamo, eredità, facendo finta che fosse tutto nuovo, il che non è. In questa maniera possiamo verificare quanto queste tematiche siano capaci ancora oggi di condizionare, sia pure in un modo alterato o distorto, la vita di tutti, di milioni di persone e soprattutto come a livello interiore e personale, questa nella seconda parte, nel pomeriggio questi dettami possono essere ancora utilizzati, possono essere praticati e soprattutto riprendere la loro funzione di liberazione, la loro funzione destruente rispetto a dei cliché, a degli archetipi, a delle forme mentis particolari che invece sono state, diciamo, veicolate, ripeto, in modo improprio, anche attraverso i messaggi religiosi tradizionali, classici. Quindi per chi è interessato a questo approfondimento, l'appuntamento al 9 maggio, troverete nel link tutte le indicazioni per cui potete iscrivervi a questo seminario e mi raccomando, ricordate sempre l'assunto, come nel webinar precedente sulla cabana, che è formato da tre parti, che cosa è l'oggetto in esame, come è strutturato e a che cosa serve. Io mi muoverò sempre secondo questi tre dettami, anche nei webinar successivi, perché non serve a nulla una conoscenza che non è applicabile o che non abbia una funzione di accrescimento della consapevolezza, della conoscenza spirituale e della sua applicabilità proprio come visione della vita. Acquisire una marea di informazioni, di nozioni, di interpretazioni, peraltro altrui, su una materia come quella spirituale, non serve a nulla. All'inizio del sentiero ci possono essere, diciamo, delle pietre miliari, ma poi il cammino se lo deve fare ognuno da solo. Per farlo però deve avere una corretta informazione, quantomeno la meno inquinata possibile dai pregiudizi e dalle manipolazioni che sono state fatte nell'arco di un tempo effettivamente molto lungo. Quindi l'invito è a partecipare a questo webinar sui misteri alla ricerca, tutti insieme, del mistero maggiore. Grazie. Il prossimo webinar di Giorgio Rossi sui misteri sarà domenica 9 maggio. Troverete il link in descrizione sotto al video nell'info box. Troverete inoltre anche la registrazione del primo video seminario La cabala e il gioco di Dio. Grazie a tutti per il vostro sostegno. Grazie a tutti.